Questo mondo, questo mondo, questo mondo cos'è? Questo mondo, questo mondo, questo mondo cos'è? Questo mondo qui, questo mondo qui è diventato problematico questo mondo qui questo mondo qui è diventato problematico questo mondo questo mondo che cos'è questo mondo questo mondo che cos'è questo mondo questo mondo è diventato strano questo mondo questo mondo è diventato strano questo mondo questo mondo che cos'è questo mondo questo mondo che cos'è questo mondo questo mondo è diventato difficile questo mondo questo mondo è diventato difficile questo mondo è diventato difficile questo mondo è diventato difficile